Piera Maggio ha annunciato attraverso i suoi profili social di aver diffidato la trasmissione quarto grado. Durante la trasmissione quarto grado il giornalista ed ospite fisso Carmelo Abate ha raccontato dettagli della vita privata della donna facendo a dir di molti passare la donna come una poco di buono cercando di difendere Jessica e Anna Corona. La donna ha comunicato quanto segue. Si diffide il programma quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con vemenza inopportuna senza contegno da parte di Carmelo Abate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi. Oggi nella puntata di ore 14 Piera Maggio si sfoga in diretta e annuncia che se dovessero ancora parlare del suo caso sporgerà denuncia. La mamma di Denise fa anche un appello all'ordine dei giornalisti che prenda provvedimenti nei confronti di Carmelo Abate. La donna non tollera certe esternazioni nei suoi confronti in quanto vittima. Non si può denigrare e farmi passare per una persona che non sono. Questo non è giornalismo. Hanno detto cose sulla mia persona molto pesanti. Queste persone non mi conoscono, non sanno niente di me e si permettono di giudicare. Non sanno nulla del mio passato. Non possiamo essere attaccati e denigrati. Noi siamo delle vittime. Poi fa un riferimento alla verità. Io conosco la verità. Chissà, parli.